... Sì, sì. Il corteo che andrà alla lapide di Saltarelli, lo ricordiamo, stamattina è stata messa la nuova lapide. Saverio Saltarelli è stato ammazzato nel primo anniversario della strage in piazza Fontana, poi andremo giù in via larga e arriveremo alla sede dell'Asso Lombarda in via Pantano per ricordare lo sfruttamento di oggi, tutti quelli della piazza di corteo. Siamo tutti antifascisti! Allora intanto che la gente arriva, se c'è Fabio Stoppani, il compagno di Saverio Saltarelli, siamo stati testardi oggi, sembrava una scommessa impossibile ma alla fine questa scommessa impossibile si sta materializzando. Ora i nostri dissimulano tra fetide e carene, cos'è cementi schiavi in questo remare mare? Fa sorganti sui martiri il suo dell'anarchia su schiavi all'armi all'armi. C'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavaro del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, anche la panca a chi vede il cordello. Ho come tutto un po' la cosa in fretta, e gli sparghi accette, tutto un po' di fretta. No, 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 non si può, non vi. Una rosa, un santo di violenza.